Intanto una cosa che ci siamo sempre detti è che ci siamo conosciuti tardi e ogni volta scherzavamo su questo. E poi provavamo a tirar fuori idee per la città che entrambi amiamo, amavamo. Devo dire che ho scoperto una persona con una profondissima umanità, capace di parlare di cose molto profonde e molto leggeri allo stesso tempo, di ridere e emozionarci continuamente. Mi ha fatto davvero piacere conoscerlo e diventare di fatto sua amica. C'è un vostro incontro che l'è rimasto nel cuore? Un episodio che ci aiuti a capire lui? In realtà ogni volta pensavamo ai quartieri di Roma e cercavamo di immaginare, e di ricordare chi o che cosa per che cosa magari quel quartiere era importante, a chi aveva dato i Natali e quindi stavamo facendo un po' un lavoro di ricerca su questo. Ogni volta lui tirava fuori degli aneddoti incredibili e mi faceva capire quanto in maniera approfondita conoscesse i singoli angoli della città. Era una scoperta continua, davvero. Scusate.